Traffici illeciti in Italia, con tratta di esseri umani, con proventi però mandati in Nigeria via aereo. Nove arrestati, cinque uomini e quattro donne, tutti nigeriani, per associazione a delinquere finalizzata alla Commissione dell'Illecita Intermediazione Finanzaria, Autoriciclaggio e Riciclaggio Trasnazionale e Reato di Tratta di Esseri Umani. È il bilancio dell'operazione The Travelers, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia dell'Aquila e portata avanti dalla squadra mobile di Teramo con l'ausilio del personale del reparto Prevenzione Crimine di Pescara e delle mobili di Ascoli, Fermo e Macerata. L'operazione odierna segue quella precedente riguardante la tratta di esseri umani, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e lo sfruttamento della prostituzione di almeno 12 giovani donne nigeriane che si prostituivano nel territorio di Teramo alla bonifica del Tronto. Le donne arrivavano in Italia via mare con la promessa di un lavoro e di una vita migliore, venivano sottoposte a riti voodoo. Le indagini presentate oggi all'Aquila hanno permesso di individuare la destinazione del denaro. Gli investigatori hanno stanato un sistema diffuso in tutta Italia di raccolta del risparmio, riciclaggio e autoriciclaggio attraverso il sistema della Uala, che prevede il concorso di chi vuole trasferire fondi, di colui che li riceve e degli operatori residenti nei due paesi dove avviene il trasferimento di denaro. Riprende la provvista, prende i soldi che devono essere poi destinati a chi li ha anticipati in Nigeria e li trasporta. Quindi è una banca che non è una banca, è un sistema bancario che corre su canali assolutamente fiduciari e assolutamente individuali. È il sistema ideale per riciclare. Non contestiamo la mafia, siamo la direzione distruttuale antimafia, non contestiamo l'associazione mafiosa al momento. L'associazione a delinquere con basi operative a Teramo, Ascoli, Fermo e Macerata era dedita al riciclaggio e l'autoriciclaggio verso la Nigeria. Si muovevano in aereo e corriere, occultavano ingenti somme di denaro nei bagagli a seguito. I proventi derivavano prevalentemente dallo sfruttamento delle giovani donne nigeriane. Le abitazioni di appoggio delle donne, ospitate dalle cosiddette madama, erano a Martinsicuro. Il denaro veniva inviato in Nigeria. In un caso, sui corrieri dell'associazione, prima che si imbarcassero nei voli verso la Nigeria, sono stati trovati oltre 400 mila euro. In meno di un anno si sono contati circa 100 viaggi per trasportare lecitamente i soldi. Complessivamente il flusso di denaro è impressionante, circa 7 milioni e 500 mila euro. Due persone sono state arrestate a Fiumicinio prima di imbarcarsi. Un altro è stato fermato al casello di Teramo. Uno risulta ancora latitante e irreperibile. Tutti gli arrestati residevano tra Fermo, San Benedetto del Tronto, Nereto e uno a Bologna. Avevano il permesso di soggiorno per lavoro autonomo, che chiaramente era una copertura.